Noi dell'associazione Villa C'è abbiamo creato un'atmosfera natalizia nel paesino di Villa Ciccolini. Nasce dai soci, l'organizzazione di questo Natale un po' particolare dovuto un po' al Covid. La prima iniziativa che vogliamo realizzare è l'accensione dell'albero il giorno 8 dicembre alle ore 18. Ovviamente sarà tutto in versione virtuale, quindi vedete l'accensione dell'albero sulla nostra pagina Facebook. Sempre legato all'accensione dell'albero ci sarà anche il nostro parco davanti alla scuola Papa Giovanni XXIII dove partecipano anche i nostri figli. Sarà addobbato con luci particolari e diventerà il nostro Christmas Park. I bambini della scuola hanno realizzato degli addobbi che poi andremo ad appendere in modo tale che renderemo più festoso anche il nostro parco grazie al loro aiuto. Un'altra delle nostre iniziative è legata a Babbo Natale. I bambini che dal 10 al 15 dicembre si iscriveranno gratuitamente sul numero dedicato di WhatsApp riceveranno una letterina che verrà consegnata il giorno 20 tramite Babbo Natale, ovviamente nel rispetto delle normative Covid, che girerà per le strade di Villa Ceccolini con la sua ape slitta. Ovviamente addobbata, sarà una sorpresa un po' per tutti. Il giorno 21 alle ore 21 sulla nostra pagina Facebook ci sarà l'estrazione dei giocattoli che sono stati offerti dai nostri negozianti del paese di Villa Ceccolini per tutti i bambini. Un'altra delle nostre iniziative in collaborazione con il quartiere 4 è Decoriamoci. Le case decorate in maniera originale sia internamente che esternamente verranno premiate. Inviateci le vostre foto così la nostra giuria e i vostri like daranno origine alla migliore casa che verrà premiata.